allora il lavoro è terminato armando come ti sembra ottimo servizio ottimi prodotti per i prezzi come ti sei trovato benissimo in realtà abbiamo scelto voi per le recensioni che abbiamo visto su internet e non ci potevamo affidare a nessun altro se non a voi perché veramente le recensioni parlano chiaro e alla fine si sono rivelate per quello che siete veramente bravi sia venditori proprietari tutto ti ringrazio amando grazie a voi